Sì, mi chiede, ecco qua. Bene, allora, sarò velocissimo oggi, ma insegnerò un qualcosa che è in connessione con quello che è stato detto domenica. Domenica abbiamo parlato dell'integrità, oggi vi insegnerò come fare a rimanere integro fino alla fine. Vuoi ripetere con me fino alla fine? Sai che significa fino alla fine? Fino a quando moriamo, perché l'integrità rimane tale quando sei fedele fino a che muori. Basta che non sei integro due secondi prima di morire e ci pensate? Allora andiamo a vedere insieme, ci sono i versi? Li hai messi? Beh, brava quella figlia. Allora, il 70% di tutti i leader, e il tasso è molto alto, non termina bene il suo percorso. Guardate la percentuale è molto alta, il 70%. Quindi voi credete che questa sia la volontà di Dio? È volontà di Dio non finire bene questo percorso? Non essere fedeli, non essere integri? Allora ci chiediamo, ma questo 70% di persone che non hanno terminato bene, che fine hanno fatto? E allora mettiamo. Ci sei? In seconda Timotio 4.10, Paolo dice così, cerca di venire presto da me. Perché? Perché Dema, avendo amato questo mondo, vuoi sottolineare questo mondo, mi ha lasciato. Quindi ci può essere che tu, amando le cose del mondo, non sei integro e lasci un percorso. E Paolo dice, vieni presto perché qualcuno ha amato il mondo e non posso più fare affidamento su di lui. Poi ci può essere anche un altro caso, quelli che si adagiano. Avete mai pensato a quelli che si adagiano? Quelli che si rilassano? Quelli che ormai hanno standardizzato tutti? Ecco, quelle persone hanno un grosso rischio. Io vi faccio degli elenchi, spero che tu non rientra in nessuno di quello che sto dicendo stasera, però se lo studio viene fatto è perché uno deve cominciare a capire le cose come vanno, no? Allora, quelli adagiati, li spiega sempre Paolo in Filippesi. Filippesi 3.19, il verso B diciamo di Filippesi, dice la fine dei quali è la perdizione. Eccolo qua il problema. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Una persona si adagia, smette di pensare spirituale, si adagia e rischia di perdere la chiamata, di fermarsi. Un'altra condizione, l'abbiamo detto, è gli squalificati. Non perché c'è stato Dio con il cartellino rosso, ma perché lo vediamo insieme? Gli squalificati sono quelle persone che hanno dispiacere del peccato, ma non si sono pentiti. Che significa? Sì, all'interno delle comunità ci sono persone che hanno dispiacere del peccato, ma in realtà non si sono ravveduti. E lo dice qua, o è nel veloce? Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento. Allora, quando il pastore te le dà nelle orecchie, è perché ti sta amando e se ti stai rattestando, gloria a Dio, perché vuol dire che quella cosa è venuta fuori, curala. Perché quel ravvedimento porterà la salvezza. Allora, le persone che hanno questa tristezza che viene dal secondo Dio, perché a volte capita che quando tu vieni a conoscenza del peccato, lo Spirito Santo ti convince e tu ti rattristi. Però questa tristezza è buona. Quanti di voi sono stati rattristati da Dio? Alleluia, Signore, se c'è qualcosa che non va, ti prego, rattristami, perché mi devo pentire, mi devo ravvedere. Non vi piace? Ah, ok. Mi stavo preoccupando. Dice, del quale non c'è mai da pentirsi. Vedete? Tu non ti devi mai pentire di avere questa tristezza. Mai! È una tristezza buona. Ma la tristezza del mondo invece produce morte. E anche morte spirituale. Allora, Saverio, che è quello che viene da Bari, dice, come è potuto accadere tutto ciò? Ecco, la vita del re Salomone ci dà una chiara spiegazione. Il re Salomone è un esempio biblico per eccellenza di qualcuno che ha iniziato in una maniera straordinaria con Dio ed è finita le pezze. Cioè, come si dice, ritirata francese, aspetta, come si dice? Furia francese e ritirata spagnolo. Di che cosa mi dà che fai un percorso così in salita e poi ti lasci rattristare e finisci la tua vita nell'inferno. Il re Salomone, dice, ahimè, è accaduto questo. Di alla persona accanto a te, se Dio ha deciso di raccontarci del re Salomone è perché ancora oggi ci sono il re Salomone. È chiaro! Quindi ha smesso di essere un uomo di saggezza perché Salomone ha scritto i proverbi, ha scritto anche i proverbi ecclesiaste, ok? È stato un saggio, quindi lui ha iniziato con questa saggezza e poi infatti in proverbi lui stesso scrive questo. Dice, il timore del Signore è il principio della scienza. Vedete un po'? Che folle! Era così saggio e poi è diventato stolto e lo dice, ma gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ora, io ho imparato tante cose, sapete quando? Nei momenti tristi, quando il Signore mi ha rattristato. È lì che il mio cuore si è forgiato. Ho imparato tante cose. Tant'è vero che io dicevo, ma che cosa raccoglie quest'uomo che mi sta dando nelle orecchie? Qualcosa di buono mi vuole dare, ma perché me lo dice? Ma che cosa gli entra nella tasca? Mi stava amando. Poi a un certo punto divenne cinico Salomone, addirittura un pazzo, che più tardi nella vita scriste anche ecclesiaste. Sapete cosa ha scritto un ecclesiaste? È tutto vanità. Eeeh, ormai. Cioè, passa da una saggezza a una stoltezza incredibile. Allora, sempre Saverio che qua si fa le domande e dice, vabbè, pasto, ma come perdiamo l'integrità? Tutte una volta? No. È come la rana. L'integrità si perde come la rana. Quanti conoscono la storia della rana? Se tu prendi una rana e la metti nell'acqua bollente, che fa la rana? Zompa. Ma se tu la metti in acqua fredda e poi accendi il gas, che fa la rana? Muore lentamente, senza che se ne accorge. Così si perde l'integrità. Lentamente. Tu non te ne accorgi. Tu pensi che tutto va bene, tutto sta procedendo bene, tutto così, all'improvviso ti girerai intorno e dirai, oh, ma che mi è successo? Però, grazie a Dio che c'è lo Spirito Santo che viene in soccorso, le sentinelle che ti dicono, ehi, grazie a Dio che c'è una parola che ti parla, grazie a Dio che c'è una chiesa che ti sostiene, grazie a Dio che c'è un gruppo leader che ti guida, grazie a Dio che c'è un pastore che è così pesante, che sta sempre a... però lo fa per questo. Lo si fa per questo. Ariane è d'accordo perché è una futura leader e quindi già sta facendo così. Quindi si perde un passo alla volta e di rado è solo un piccolo fattore, una piccola influenza, piuttosto spesso è solo un passo che si mette magari in una direzione un po' sbagliata senza che la controlliamo, poi all'improvviso arrivano quattro grandi fattori. Sono quattro. Sono quattro. Questi quattro grandi fattori quando arrivano tu starai nella pentola con l'acqua che bolle e non te ne accorgerai. Ascolta bene quello che ti sto dicendo perché ti sto dando una istruzione per il tuo bene. Questi quattro fattori quando arrivano tu non li vedi, non ti accorgerai che l'acqua bolle ma stai lì lì per dare l'ultimo respiro. Quanti di voi vogliono sapere come si chiamano questi quattro fattori? Non lo dico più perché sennò mi impappino. Soldi, sesso, potere e orgoglio sono i nemici dei cristiani, sono i nemici dell'uomo. Questi primi quattro fattori sono solo i primi, poi dopo ce ne stanno altri quattro. Questi sono i più comuni, i più ovvi tra i leader cristiani. Questi quattro fattori sono fattori che il nemico manda per buttarti giù e non farti essere fedele alla chiamata. Guardate in prima Giovanni. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal padre ma viene dal mondo. Soldi. Il denaro non è una cosa malvagia, è vero? Molto spesso sentiamo dire gli anziani i soldi sono due demoni, è vero? È falso. Guardate che i soldi non sono malvagi. Grazie, meno male che c'è mio padre che mi pensa. Non sono malvagi. Ma è l'uso sbagliato dei soldi il problema. Ok? Infatti in prima Timotro 6.10 lo conosciamo questa scrittura. cerca di andare. Che c'è? Eh sì, non si è andata avanti tu, tu dormi. Vai avanti. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi sono dati si sviati dalla fede e si sono procurati pochissimi dolori. Molti? Scusa, molti dolori. I soldi ti allontanano dalla fede. Tutto quello che ha una ricchezza ti allontana dalla fede. Seconda Timotio 3.2 guardate cosa dice. Perché gli uomini negli ultimi tempi saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai pastori, no ai genitori, ingrati e irreligiosi. Questo accadrà negli ultimi tempi. Qual è la risposta di Dio a tutto ciò? cosa ti dice Dio di fronte a questo problema? Io spero che tu non abbia questo problema, che non sei schiavo di mammona. Veramente sono felice che tu non hai questo problema, ma se per caso c'è anche uno che ha questo problema, io non voglio mettere il dito al problema, ma voglio darti la soluzione. Qual è la soluzione che Dio dà a questo problema? Gesù dice a Matteo cercate prima il regno. Cercate prima me, il resto verrà dopo. Questa è la soluzione, per cui non farti prendere dal denaro, dalle cose che valgono, perché ha più valore Gesù, il suo regno. Io ho visto tante persone con i soldi che sono poveri. Ne ho visti tantissimi. vieni a predicare, vieni, vieni a predicare. Dove vai? Seconda cosa, sesso. Guardate, grandi uomini di Dio sono caduti, anche Davide. Conoscete Davide? Ok. Il sesso non è un problema, se fatto nel matrimonio. Anzi, è un dono prezioso che Dio ci ha dato, ma va fatto nel matrimonio. Una deviazione del sesso produce un problema. Cerca, come dire, di bloccare una chiamata. Vediamo velocemente dei versi, voglio essere veloce. Guardate un po' che cosa dice sempre Salomone. Ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno nella sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Infatti, la sua casa, guardate cosa dice Salomone, pende verso la morte. Un adulterio, in una casa, porta la casa ad andare giù. Lo stesso un ministerio, lo stesso una chiamata, lo stesso una chiesa. Ci sono ministri che sono stati unti da Dio, famosissimi, usati, che per un adulterio hanno perso l'unzione. Hanno finito, chiuso. Eppure sono stati, sì, purtroppo è così. Signora, lontana da noi queste cose. I suoi sentieri conducono ai defunti. Io non è, ai festini 5, anche Paolo parla di questo. Dice, ma come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra voi. Dice Paolo, manco la dovete nominare questa cosa. Allora, anche a questo problema, se tu hai problemi di sesso, cosa ti risponde Dio? Qual è la soluzione che Dio ci dà? Vogliamo dire, Signore, grazie? Perché ad ogni mio problema, tu hai una soluzione. Alleluia. Amen. Guardate che è la soluzione che Dio dà. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, però senza commettere peccato. Allora dove sta la soluzione? Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Quando tu hai questo problema, vai da Dio, vai davanti al trono della grazia per ottenere misericordia. Confessalo. Non avere paura. La più grande strategia di Satana è che ti mette paura di confessare i peccati. Non farlo mai. Non cadere in questa trappola. Sii limpido davanti a Dio, anche perché non ci possiamo nascondere. Ok? E quindi quando noi andremo davanti al trono di grazia con misericordia, riceveremo misericordia e grazia e saremo soccorsi al momento opportuno. Io so che ho diversi problemi, posso avere diverse difficoltà, ma vado al trono di grazia e dico Signore tu hai simpatizzato per me, sei morto per me, ho queste debolezze, vieni soccorso. Bisogna riconoscere. Vuoi la vittoria sui tuoi problemi? Riconosceli. Se non li riconosci hai perso già. E chi ci rimette sei tu. Potenza. Dovete sapere che la leadership è un'influenza. Ok? Tuttavia, all'interno della leadership, se tu fai abuso di potere, hai gravi conseguenze. Ci sono stati degli esempi biblici, e ne ho preso uno a caso, che quando tu stai anche all'interno di una chiesa, se tu fai qualcosa che nessuno ti ha detto di fare, quello è abuso di potere. La Bibbia lo chiama così. E guardate cosa succede a un certo Simone. Ora vi era un tale di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Ora vi era tutti, dal piccolo al più grande, li davano ascolto dicendo, questa è la potenza di Dio. Quante volte capita che noi diciamo, è Dio, Dio, Dio. Quella che è chiamata la grande. Vai avanti. E li davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Vedete qui un mandato. Ecco perché io molto spesso spiego, insegno, non fare qualcosa che nessuno ti ha detto. Perché nel regno di Dio, per fare ogni cosa, devi avere un mandato. Se non hai un mandato, sei un brigante e viene attaccato. Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatte. Wow! Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro finché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora sceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù, cioè in acqua. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che, guardate adesso, ascoltate adesso, che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro il denaro dicendo voglio pure io, dammelo. Il potere acceca. Date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrono le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, il tuo denaro vada con te in perdizione perché hai creduto di poter acquistare con il potere, con il denaro, il dono di Dio. Tu hai questo, non hai parte né sorte alcuna perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché se è possibile ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Amen? Noi sappiamo che Dio ci ha dato dei doni. Sapete da dove deriva la parola dono? Qualcuno che ha studiato. Deriva da caris, che è una grazia. Ogni cosa che Dio ci dà non va acquistata, ce la dà per grazia. È un dono che ci dà, è gratuito. Tu non devi acquistare niente. Tu devi solo ravvederti e accettare il sacrificio di Gesù nella tua vita e vivere in ubbidienza. Tutto il resto ti viene dato in più. Allora qual è la risposta di Dio? Guardate la contrapposizione a quello che vi ho detto. Guardate Gesù cosa risponde eppure da Gesù. In contrapposizione quando gli veniva dato gli offerto un potere. Credi forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Gesù poteva fare abuso di potere. Se io voglio posso chiamare più di 12 legioni di angeli. 12 legioni devi fare, 6.000 per 12. Tantissimi. Dice Gesù posso farlo, ho il potere di farlo, ma non ho mai fatto abuso di potere. Io sulla terra sto qui come vero Dio ma vero uomo. Non ha abusato della sua deità. Anzi, quando Gesù è stato sulla terra è stato spogliato dalla sua deità. Quarto, orgoglio. I leader che godono di grande successo nel ministerio sono inclini alle tentazioni di questo settore. Tuttavia bisogna fare attenzione quando tu hai un compito all'interno della chiesa. Perché il demonio dell'orgoglio ti comincerà a mordere, tu nemmeno te ne accorgi. Proverbi 16,8. Dicono gli anziani, tu devi andare dal patuto, non dal saputo. Perché chi c'è passato prima di te? Te la può raccontare lunga. Io sono stato vittima dell'orgoglio, mi sono fatto male. Tanto male. Guardate i proverbi. Dice la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Quando noi subito vi state facendo male. Calma. Con calma. si ragiona sulle cose. Qual è la risposta di Dio? Vediamo c'è Filippesi dopo. Ok. Dio dice questo. E questo è un consiglio davvero amorevole che io vi do. All'interno di questa chiesa dobbiamo imparare a lavorare così. Tra di voi ci deve essere questo spirito. Dice non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria ma ciascuno con umiltà che è una parola difficile da dire. Poche persone riescono a dire umiltà. La paralisi. Stimi gli altri superiori a se stesso. Guarda la persona che è accanto a te. Io scelgo Vittoriana dai. E di questo. Io da oggi ho capito che tu non sei un mio problema ma sei la più grande risorsa che Dio mi ha dato. Amen. Il fratello e la sorella che sono accanto a te non devono mai essere un tuo problema, un tuo nemico, un tuo antagonista. Il fratello e la sorella che hai accanto sono la più grande risorsa che Dio ti ha dato per farti crescere. e se la sorella che hai accanto ti sta qua ti posso garantire te l'ha messa Dio. Te l'ha messa Dio perché vuole farti crescere. Se tu hai la sorella e il fratello che ti sta qua te l'ha messa Dio. Vuoi un consiglio? Impara ad amarlo. Imparerai tante cose. C'è qualcuno che ha qualche fratello qui? Ehi dai fate pace dai. Poi ci sono altri quattro. Gli altri quattro invece sono come il cancro. Quindi possono essere pericolosi non di meno dei primi. E quindi possono lentamente con il tempo crescere e influenzare la vita fino a che poi è troppo tardi. Tu non te ne accorgi. E patta pam. Avete mai letto quella storia del seme che cade nelle spine. Questo significa quando il seme cade nelle spine. Che noi smettiamo di ascoltare e imparare. Quando tu smetti di ascoltare la voce di Dio, i consigli di un fratello anziano. Guardate all'interno della Bibbia Dio ha voluto degli anziani. Gli anziani sono una risorsa. Cioè tu dagli anziani devi imparare, dai leader devi imparare, dai pastori devi imparare perché sono delle risorse per te. Ok? Quindi stanno lì per ascoltali. Quando tu invece non ascolterai un leader, non ascolterai un pastore, ti posso dire non ascolterai nemmeno Dio perché è un riflesso. E quando smetterai di imparare pensando che sei autosufficiente, quello è un grande problema. Allora ripeti con me questa convinzione. Io ne sono convinto di questo. Dichiariamo questo tutti insieme. Anche se io un giorno sarò il più grande ministro del Dio Altissimo, io decido di rimanere ai suoi occhi sempre pecora. Non smettere mai di essere pecora. È un consiglio che io ti do. non smettere mai di essere pecora. Anche se io sono un pastore, prima di tutto davanti a Dio sono una pecora. Perché una pecora non smette mai di imparare. Se poi tu segui quell'altro, sgarbi, sarai una capra, capra, capra. Anche se le capre abbiamo visto che ascoltano il pastore. Ok? Quindi non dobbiamo mai smettere di imparare e mai smettere di ascoltare. Infatti il problema di Salomone, sapete qual è? Smise di ascoltare la voce di Dio. Smise di imparare da Lui. Allora Dio ci dà una soluzione a questo. Guardate Gesù come amorevole. E Gesù, dice Luca, cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Uè, chiesa, Gesù cresceva. Gesù cresceva. Gesù imparava. Vuole ripetere con me? Gesù cresceva. Gesù imparava. Figurati io. Dillo, figurati io. Dittelo. Ripetilo. Figurati io. Matteo, prendete su di voi il mio gioco imparate da me. E imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Poi c'è l'altro in proverbi. Proverbi 1.5. Cioè, il saggio, il saggio, ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Sempre Salomone, in proverbi 9.9, dice questo. Istruisci. Chi istruisce? Un uomo. Il saggio. E diventerà più saggio che mai. insegna il giusto e accrescerà il suo sapere. Dio mette sulla terra persone che vi istruiscono. Io, prima di salire qua, sono stato istruito, continuo a essere istruito e non vorrò mai smettere di imparare perché per me essere istruito è grazia, è benedizione, è forza, è sapienza. Dio alla persona che è accanto a te. Siete curiosi? Se smetti di imparare oggi, smetterai di crescere domani. Se tu smetti di imparare oggi, domani non cresci. State ricevendo? Allora, poniamoci questa domanda. Hai piani per la tua crescita spirituale? Hai dei piani? O vivi la giornata? Poi c'è l'altro problema. Smettiamo di vivere secondo le nostre convinzioni. No, ma io, ma io, ma io, ma io. Quanti di voi dicono ma io, ma io, ma io? Questa cosa deve essere cambiata con l'aiuto dello Spirito Santo perché solo lui ci può cambiare. ma Dio, ma Dio, ma Dio. Infatti, Salomone ha smesso di imparare per questo. Dice, al tempo della vecchiaia di Salomone, il suo cuore non appartiene interamente al Signore, suo Dio. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide e suo padre. Qual è la risposta di Dio? Afferma le tue convinzioni. E soprattutto ti do un consiglio. Esamina il tuo carattere. È importante. Mi ricordo un pastore profeta che molti di voi, alcuni di voi conoscono, è un brasiliano. Mantengo la privacy. Io stavo nella chiesa dove sono cresciuto. Mi prese, mi dice, tu sei un grande uomo di Dio, hai tanti doni e tanti talenti, ma questo caratteraccio, se non lo cambi, non ti porta da nessuna parte. Io avevo un caratteraccio. Forse ce l'ho ancora un po', può essere. Il carattere è fondamentale. La risposta di Dio, sapete qual è? In Salmi, cercami Signore. Quando hai difficoltà anche nel carattere, cercami Signore, vai da Dio. Non possiamo fare a meno di parlare di ciò che abbiamo visto e udito certe volte, no? Allora se hai problemi con il carattere, o se hai problemi che non ti riesci a sradicare le tue convinzioni, ti do un consiglio. Hai nella tua vita almeno una persona con cui ti confronti. E' importante non vivere per te stesso. E' necessario per il tuo bene avere una persona dove ti confronti. Sai, voglio dirti questo. Noi non riusciamo a vedere tutto. Però una persona che viene da fuori riesce a vedere cose che noi non vediamo. Vi faccio un esempio molto pratico. Quanti di voi pensano che la propria casa non puzza? Tutti pensiamo che nella nostra casa odora. Non è così. Quando entrate nelle case degli altri, sentite tutti gli odori che quelle di casa non sentono. Perché? Perché si diventa a suoi fatti. Molto spesso anche noi siamo così. Non riusciamo a vedere i nostri errori perché siamo a suoi fatti. Allora è importante avere un confronto con una persona, ma un confronto amorevole, non con giudizio, perché tu vuoi il benessere di quella persona che ti fa notare delle cose. Ma lo fai per il tuo bene. Se poi vai con giudizio stai fuori. Tu lo fai con amore per far notare delle cose. E' importante. O se qualcuno viene e ti fa notare qualcosa tu ti ferisci. Se ti ferisci, eh no. Io parlo se uno viene con amore. E' chiaro che se uno viene, ah ma tu, eh no. E' un altro discorso. Se uno viene con amore e ti viene a dire, no ma guarda, cerca di capire questo. Ma vedi, ascolta. Io non sto dicendo obbedisci. Ma perlomeno ascolta, cerca di riflettere. Fatti i tuoi ragionamenti. Un altro problema. Smettiamo di camminare sapendo chi noi siamo. Tu cadi come leader quando smetti di... Quando non riconosci più la tua identità. Quando tu non ti riconosci più come figlio di Dio, come operaio di Dio, ti senti un buon a niente e cadi. Questo non lo devi permettere. Tu da stasera devi essere convinto che appartieni a Dio. Sei proprietà di Dio. Sei strumento di Dio. Sei figlio di Dio. E questa identità non te la può togliere più nessuno. Più nessuno. Una sola persona te la può togliere e sei tu. Non te la far rubare né dagli altri e nemmeno da Satana. Non te la fare mai più rubare. Tu sei figlio di Dio. E nessuno mai più può cambiare questa condizione. Nonostante i nostri difetti, le nostre debolezze, agli occhi di Dio noi siamo Suoi figli. Perché Dio non guarda le nostre debolezze, ma guarda il nostro cuore. Tutti sbagliamo e Dio lo sa. Perché Dio non ci punisce. Ci ama. Io il Dio che punisce non l'ho mai conosciuto. Mai. Salomone trascurò la sua identità, la sua eredità e dopo la sua morte il regno fu diviso. Si divise. Qual è la risposta di Dio? Calmati e rivedi bene il tuo impegno. Rivedi bene la tua responsabilità. Rivedi bene la tua identità. Aspetta, dove sto andando? Perché sto lasciando? No, io non posso lasciare. Io non devo lasciare. Perché mollare non esiste. Provate a pensare a Gesù. Se avesse mollato questo. Ah, poveri noi. Gesù ci ha insegnato a non mollare mai. Qualsiasi cosa, anche a costo delle frustate, crocifissione, lancia nel costato, non mollare mai. Cosa c'è, eh? Ok. Per loro io santifico me stesso. Il leader non vive per avere, ma vive per dare. Quando tu imparerai a vivere annullando tutto te stesso, allora incomincerai a volare. Volerai sopra. Anche anch'essi, affinché anch'essi, siano santificati nella verità. Un esempio. Io mi santifico affinché tu impari a santificarti. Se io ti faccio vedere che sono ribelle, tu sarai ribelle. Se io ti faccio vedere che io sono superbo, tu sarai superbo. Se io ti faccio vedere che io sono timoroso del Signore, tu sarai timoroso. È importante. Chi sta in autorità, sta insegnando. Lo spirito che è su di me, Mosè, sarà su di te. Non cambia. Ci siamo fin qua? È pesante? Secondo a Timoteo, tu dunque figlio mio, fortifica nella grazia che è in Gesù Cristo. E le cose che hai udite da me, vabbè, poi lo leggiamo dopo questo. Sì, sì. E le cose che hai viste da me, dico bene, sì. In presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Io affido un qualcosa a una persona sapendo che quella persona la insegna come se la dovesse insegnare io. Se io vedo che tu non la insegni come te la sto insegnando, non va bene. Per questo, quando io devo affidare qualcosa, è importante questo requisito. Affidali a uomini fedeli. Sapete chi sono gli uomini fedeli? Quello che fanno quello che tu dici. Questa è fedeltà. Ovviamente, rispettando la parola di Dio, non andando in contrasto con la parola di Dio, non ti sto dicendo «Ehi ragazzi, domani usciamo, uccidiamo!» «Vabbè, l'ha detto il pastore, facciamolo!» «No!» Se dovessi dire una cosa del genere, prendetemi a schiaffi, prendete la parola, venite da me e dici «Pastore, ma hai letto questo?» «Si dice così al Santo Spirito?» «Come si dice?» «Ah, è proprio aperto!» «Ah, è vero! Quando è chiuso è fuggione!» «È vero!» «È vero! Ma stiamo in diretta, che figuraccia!» «Volete un consiglio?» «Dici, pastore, ne stai dando tanti!» «Ti faccio una domanda!» «Hai un Timoteo nella quale stai investendo affinché siano discepoli, fedeli e riproducano se stessi negli altri?» «Ce l'hai?» «È fondamentale!» Avere un Timoteo significa guardare in un futuro e guardare il regno e avere vita. È importante. Ciao Nico! È importante. Hai un Timoteo. Ogni leader deve avere un Timoteo. Sapete che significa avere un Timoteo? Dare tutta la tua vita per lui. Essere anche presa a schiaffi. Tu dai tutta la tua vita. Ti togli il cuore e gli dici «Tieni, Timoteo, questo è tuo!» È importante. È fondamentale. Lo so che è difficile. Nel mondo questo è una cosa assurda. Anzi, nel mondo questo è un pericolo. Ma io vi sto parlando del regno di Dio, all'interno del regno di Dio. Un Timoteo è importante. Guai se io non avessi un Timoteo. Anzi, io non solo un Timoteo, ma anche Zaccheo. Perdiamo l'altro quarto colosso quando noi perdiamo la nostra relazione intima con Dio. Questo è l'ultimo colosso. Non deve mai succedere. Verso la fine del suo regno, Salomone abbandonò Dio e seguì altri dei. Lì ha proprio messo fine. Qual è la risposta che Dio dà? Se tu hai difficoltà ad avere intimità con Dio, guardate cosa devi ripetere ogni giorno. Una cosa ho chiesto al Signore è quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Quando tu ti accorgi che stai perdendo l'intimità con Dio, ricordati di questo. Dici, io devo abitare tutti i giorni nella casa di Dio. Io non posso permettermi di stare lontano da Dio. Io sono chiamato e vivo per stare con te tutti i giorni. Questo ti eviterà di perdere l'intimità. E poi un'altra cosa. C'è Salmi... Un altro Salmo? C'è dopo? No, non c'è, non c'è tranne, l'ho tolto. Ti faccio una domanda in riferimento a questo. Hai un tempo consistente di preghiera giornaliero, devozionale, di intercessione, guardate, è importante. La preghiera non è solo ringraziare Dio per carità e fondamentale, ma è una preghiera di intercessione. Tu chiedi a Dio, Signore, rivelami spiritualmente, Signore, fammi vedere cosa c'è sopra qui, o fai una preghiera naturale. è importante. Dio dice, io ti do le chiavi del regno, vieni quando vuoi, è casa tua, l'abbiamo detto prima, se sei proprietà di Dio, tu hai il diritto di andare su, quante volte vuoi fai, sale e scendi, sale e scendi, un problema solo c'è, che non c'è l'ascensore, ma non serve. Ci siamo fin qui? Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è il traguardo finale, non è il compito in chiesa, non è il stare al mixer, non è... Il nostro obiettivo è il traguardo finale, essere fedeli fino alla fine. Sì. Guardate, se no, vai indietro, per favore. Ok. Allora, vai indietro. Ok. Quanto a me, dice Paolo, l'abbiamo letto domenica, ma io l'ho rimesso apposta, quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia partenza è giunto. Paolo già sentiva nel suo spirito che era arrivato, che stava terminando la sua corsa. Però cosa dice? Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Questo è il mio obiettivo. Il tuo? Io voglio rispondere così. Ho finito la corsa, sono stato fedele fino alla fine. Adesso sono pronto per venire con te. E questo è l'obiettivo. Tutto il resto, contorni. Come si finisce bene la corsa? Certo, ve lo dico io. Si finisce bene la corsa, numero uno, essere una persona integra. L'integrità è semplice. Essere una persona in cui ci si può fidare. Quella persona che tu gli dici di fare una cosa e te la fa come la dici, quella è la persona integra. Integro significa, ve l'ho già detto domenica, essere completo, essere obbediente. Vuoi evitare che sbagli? Rendi conta. Vi ricordate cosa ho detto domenica? Rendi conta te. Non abbiate paura di essere autosufficienti. Cioè, non abbiate paura. Non cadete nella trappola di essere autosufficienti, quindi non abbiate paura di rendicondare. Vi posso dare un consiglio? Quando uno rendi conta anche uno sbaglio, è straordinario la benedizione di Dio. Tu non immagini quante volte è capitato che io ho sbagliato e sono andato e ho detto io ho fatto questa cosa, ho sbagliato. L'ho rendicondata. Significa già avere, come dire, una guarigione immediata. Riconosciuta e guarito. Subito. È fondamentale. Non avere paura di rendicondare. Né a Dio, né a te stesso, né ad un uomo, a un pastore. Scegliete voi chi vi è più simpatico. Ma rendicondate. Seleziona alcune persone all'interno di cui ti fidi. Io lo faccio. Io non ho paura e vergogna di fare questo. Io lo faccio con Claudia. Lo faccio con il diacono Umberto. Dico tutto quello che non va. Anche sentimenti negativi. Dicevo qualche tempo fa io c'ho questo sentimento nel cuore. Sono umano. Pregate per me non ce la faccio. Potevo fare il bullo, no? Sai, fare il pastone superman. No. Io sono debole. Ho carne pure io. Posso sbagliare. Per questo rendi conto. Dico, amica, io nel mio cuore ho sentimenti brutti. Non mi piace. Preghiamo. Sento puzza. Non va bene. Perché ho riconosciuto. Non va bene. E poi devi essere una persona che si concentra sull'obiettivo. I grandi hanno sempre messo l'obiettivo e l'hanno raggiunto. Magari i tempi non saranno stati quelli prefissati ma comunque l'hanno raggiunto. Io voglio concludere questa sera con la preghiera di colui che finisce bene. Quanti di voi la conoscono? Paolo sta per morire. si rivolge alle anziane della chiesa di Efeso dicendo essendo legato nello spirito confessò di non sapere cosa l'avrebbe aspettato. Se non che lo spirito santo mi testimonia su allenamenti in ogni città dicendo che i legami e le afflizioni mi stanno attendendo. Paolo aveva già capito più o meno che stava andando. Quindi Paolo qua fa una dichiarazione molto profonda e anche la preghiera di ogni cristiano che desidera concludere bene deve essere questa. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa pur di condurre a termine con gioia però la mia corsa è il servizio affidatomi dal Signore Gesù cioè di testimoniare del Vangelo della grazia. Questa è la preghiera che io suggerisco di fare se vuoi terminare bene. Io non conto a niente la mia vita non conta a niente quello che è più prezioso è arrivare al termine con gioia è essere fedele al servizio che Dio mi ha affidato. Quando tu lavori per questo non permetterai né a orgoglio né a potere né a sesso né a persone né a Satana a nessuno permetterai perché questo diventerà per te una cosa così preziosa che non ha prezzo e tu non vivi più per te stesso ma vivi per lui. Amen? È chiaro tutto questo? Mi sembrerà strano ma ho finito. È finito lo studio. Quindi riepilogando impara ad ascoltare soprattutto e lasciati insegnare da chi ci è passato prima di te. Lasciati insegnare dai conduttori che Dio ha messo nella tua vita. Voglio dirti questo non sei tu che hai scelto me te lo dico io tu non mi hai scelto te lo posso garantire. Geremia dice io vi darò pastori secondo il mio cuore è Dio che ha deciso che ti devo pasturare io l'ha voluto Dio e non ti puoi nemmeno ribellare a questo. Infatti molte persone che si ribellano a questo fanno i nomadi girano nelle chiese e manacchino in abbondo dice no ma la chiesa se trovano di fai girano e fanno i nomadi poi facendo i nomadi fanno la canzone io vado abbondo è così è così Geremia dice io vi ho dato pastore secondo il mio cuore Gesù ha detto non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi per cui di questo noi dobbiamo rendi contare cioè ti sembrerà strano non è che io voglio voglio manipolarti ma ti sembrerà strano ma un giorno Dio dirà te sopposto a quel babbione di Nico ce ne sei fatta io te l'ho messo per il tuo bene e tu perché non l'hai ascoltato? no ma io volevo ascoltare la voce di Dio ma io ero la voce attraverso di lui perché non esiste autorità se non da Dio e se Dio emette autorità è per questo motivo altrimenti Dio diceva ehi niente autorità parlate con me e basta no Dio ha voluto autorità ha voluto ministri per un ordine perché sapete perché se tu non riesci ad essere obbediente a questo babbione a Dio non sarai assolutamente obbediente e questa è la verità amén siete d'accordo su questo principio quanti l'hanno sentito per la prima volta questo principio se tu non ascolti la voce non ascolterai mai la voce di Dio chi è che l'ha già ascoltato invece altre volte da altri pastori da altri ministri potete confermare alleluia alleluia mi raccomando alle tue convinzioni di credente e occhio il carattere lavoriamo sul carattere tu non sei nato con un brutto carattere sei diventato a causa della vita ma adesso conosci Cristo che è l'insegnante per eccellenza lascia distruire secondo il carattere di Cristo perché quando avrai il carattere di Cristo allora tu volerai occhio all'eredità occhio all'identità quello che Dio ha dato non può toglierlo nessuno Dio non è un uomo che dà e poi toglie quando Dio ha detto che tu appartieni a me è per sempre è per sempre non te lo fare rubare ultima cosa non smettere mai di avere relazione intima con Dio Dio è la tua linfa Dio è il tuo collante non smettere mai amèn ci credete che ho finito ho finito mettiamoci in piedi grazie a tutti grazie a tutti